Il Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, ha ricevuto a Montecitorio il Presidente della Camera di Bosnia-Herzegovina, Milorad Zipkovic. Un incontro all'insegna della cordialità, iniziato nella Sala del Cavaliere, e proseguito fuori programma con una visita alla Sala della Lupa e una panoramica dell'Aula dalle Tribune, con lo stesso Presidente Fini a fare gli onori di casa.